E vai, ho detto che era arrivato. Stai tranquillo. E le pitture tutte, hai copiato da me? Dillo, dillo. Adesso non lo faccio. Basile l'anno scorso, mi ha detto no sei matto. Qui cambia tutto. Come è andata? Spero della foto. Chiami a me la foto. Devo ribalto. Fai un favore la freccia che va su pian piano. Sì. Dun, dun. Non è rimbalzato. Non è rimbalzato. Ecco, questa è sì. Stai rimbalzato. Due piattelli ha fatto. Perché è una sagoma proprio sdraiata per terra. Eh sì. Questa è ancora meglio. Fate una prova di ancoraggio al mento. Ci dica signor Giavide, come si è trovato? C'è che culo che anima. Non fa bene. Non sono molto cattolico. Eh, grazie. E allora. Alta. No. Piuttosto che alta, bassa. Alta. Sì. Un'alta, una bassa. Adesso. Un'altra in mezzo. Questa è di rimbalzo. Due alte, una bassa, ma a me non ha fatto rimbalzo. Per me la prima non ha rimbalzato. Eh? Per me la prima non ha rimbalzato. È avviata bene, però eh. Cinque centimetri per alto è rimbalzato. Le altre due è ancora alte, puttana. Tira troppo. Tiri troppo, stupido. Vieni troppo. Avrei dovuto fargli tanto così. Se non tira troppo e non mi lamento. Tira troppo po'. Zavrola, a zero. Non l'ha fatta però. Ma guarda. Ma potrebbe essere arrivata là di me. L'ho tentato, ma non è andata. Tira tu la seconda. Ma secondo me. Ma potrebbe essere arrivata là. Sì. Ecco Ale. Questa è sponso. Questa è... Tirata bene, che è rimbalzo di merda. No, no. Ma non ha mai fatto un bel. Un bel verso. Un bel verso come la mia prima. Tu, ti, tu. Faccio po'. Mi prende lo zainetto per piacere. Così. Così. Mi prende lo zainetto per piacere. Così. Mi prende lo zainetto per piacere. Così faccio il piano sequente. Ma ecco un bel, non lo fai un bel piano piano di gnocchi. Tu bella ce l'hai? No, sì. Cos'è lo zainetto? Perché è già tutto a posto. Eh? Già tutto a posto. Va dire che il centro per piacere, non lo fai un bel piano piano. Sono ottenuto per piacere. Non è. Grazie a tutti. Grazie a tutti.